In vista delle prossime elezioni regionali in programma per il 10 di marzo proseguono gli incontri per delineare i nomi dei candidati. Durante il vertice organizzato dal centro-destra è stato deciso che i sindaci uscenti che possono ricandidarsi saranno ricandidati. Questo significa che non saranno messi in campo per le regionali. Una decisione questa su cui il sindaco di Giulianova, Ivan Costantini, si è detto pienamente favorevole alla sua ricandidatura a primo cittadino. Diciamo che ufficialmente non sono mai stato candidato alle regionali, ho avuto più volte richieste da parte del partito che rappresento, del quale sono anche il coordinatore provinciale, però penso che qui a Giulianova in questi cinque anni, quattro anni e mezzo, si sia fatto un lavoro enorme, ma che ci sia ancora tanto da poter esprimere in termini di buona amministrazione e anche in termini politici. Quindi penso che quanto accaduto ieri sul tavolo regionale possa gratificare sia il sottoscritto che tutta la coalizione di centro-destra e anche la coalizione civica che mi supporta. Noi siamo a disposizione, per me prima viene Giulianova, lo sanno tutti, lo sanno i vertici nazionali del mio partito. Per me non ne faccio mai una questione di prospettive personali, ma sempre rivolto a un gioco di squadra e soprattutto rivolto al buon governo della mia amministrazione comunale e della mia città. Per Costantini la sua ricandidatura rappresenta un'occasione per proseguire con il lavoro svolto fino ad oggi e aprire nuovi processi per il rilancio definitivo del Comune Costiero. Ripartiremo dal programma del 2019 che per l'80% è stato realizzato, quindi nonostante i due anni di Covid che ci hanno comunque rallentato porteremo a termine i grandi sfide, i grandi progetti che devono assolutamente riguardare la parte alta di Giulianova. Insomma le sfide sono tante, quello che a noi non ci spaventa, l'abbiamo dimostrato in questi quattro anni e mezzo, è lavorare. Quindi abbiamo lavorato tantissimo, ringrazio la mia giunta, la mia maggioranza, ma siamo pronti a lavorare per i prossimi cinque anni per il buon governo della città.